Ciao a tutti da Vittorio, negli ultimi due giorni ci sono state delle notizie importanti che hanno riguardato la Lazio. La prima è stato l'infortunio alla mano, la rottura del dito di Tomas Tracoscia e poi la partitella in famiglia dei giocatori della Lazio che non è consentita dal ministro dello sport per riprendere le attività sportive. Bene, Tomas Tracoscia, frattura al dito della mano, stop abbastanza lungo, campionato in grande crisi, in grande difficoltà per la Lazio, non si sa se giocherà a Proto o Guerrieri, magicamente e il giorno dopo Tomas Tracoscia si allena regolarmente, frattura al dito inesistente, Stacoscia normalmente si allena con tutti gli altri portieri. Cosa stranissima, un miracolo, un miracolo direbbero, San Gennaro ci ha pensato, direbbero a Napoli. Però Tomas Tracoscia frattura la mano, niente. La famosa partitella che ha gettato tanto scandalo fra i vari sportivi sui social, eccetera, anche il ministro Spadafora ha detto che c'è un presidente che fa il furbetto. Bene, c'erano i cosiddetti agenti 007 che hanno visto questa partitella e siamo nel 2020, non c'è una foto, non c'è un video, niente, stranissimo, uno fa la spia, guarda e non fa neanche, non prende neanche una prova per dimostrare quello che dice, un video, una foto, un cellulare, ormai è facilissimo. E in più la chicca, nella partitella c'era Jordan Lukaku. Il giorno dopo si scopre che Jordan Lukaku non è neanche in Italia, non solo non è a Formello, non è neanche in Italia, è ancora in Belgio. Però il giorno prima era volato a Roma, fatto la partitella illegale e poi è ritornato a casa. Un'altra notizia farlocca sulla Lazio, un altro tentativo di gettare fango su questa società che sta incredibilmente a lottare con la Juventus per uno scudetto che, insomma, l'estate scorsa sembrava impossibile. E invece adesso, insomma, c'è questa lotta e appena si inizia a discutere di riprendere il campionato, infortunio fasullo a Stracoscia, partitella inventata sulla Lazio per gettare scredito, no? Tornare la Lazio ad essere quella squadra antipatica, quella squadra cattiva, no? Lotito, padrone del calcio, no? Quello che infrange le regole, che le trasforma per favorire la Lazio, tutte queste cose. E però, magicamente, la partitella non c'è stata. Eppure, credo che non ci saranno smentite, non ci saranno scuse da parte di quei giornalisti. Sono sempre quelli che parlano male della Lazio che negli altri giorni hanno scritto della partitella, no? Però senza video, senza foto, senza niente. Con Lukaku però in campo, regolarmente. Ecco, immagino che in questi giorni non ci sarà nessun articolo che dirà, no? Eh, ma è sbagliato, un attacco contro la Lazio, no? Niente, non succederà niente. Intanto sono arrivati gli agenti della FIGC a verificare, perché ovviamente dopo una notizia del genere bisogna andare a verificare e sembra che invece tutto a posto. Anzi, Formello è uno dei centri più moderni del calcio italiano e tutte le norme sono state perfettamente rispettate. Un abisso rispetto ad altre strutture. Vi ho già fatto un video dicendo che il Napoli, per esempio, non può andare in ritiro, perché il Napoli non ha struttura per ospitare i giocatori, si doveva affidare un albergo, ma quell'albergo è chiuso. Però gettiamo fango sulla Lazio con notizie fasulle e farlocche, no? Stracoscia è infortunato, la partitella a tre, la partitella è l'amichevole dei giocatori della Lazio. Inventata su sana pianta, ovviamente, per gettare fango sulla Lazio. Quello avrà avuto grandissimo risalto, il fatto che fosse vero, che fosse completamente falso, vedrete, non lo scriverà nessuno. Volevo fare il video a riguardo e, insomma, questo è il mio punto di vista. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!